Musica 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 La Gertona che avanza ancora con Merkai che ha il problema di girarsi Merkai serve Serve Robotti in area Lavorosa occasione per Robotti Musica La bandierità dell'angolo Prova ad entrare in area Merkai Non ce la fa Scrossa però in area per Sam Palla per la Cava la sua confusione vicino al portiere parata, poi Manasjev, la bomba, la grande parata, che prova, la bomba e un'altra grande parata, in aria tesa, palla che termina su, attraversa e poi agli ricura, Sampe, che via la palla fuori dalla porta, c'è stato un paraclugia tremendo, Manasjev prova a portarsi in avanti sulla faccia destra, avanza il macedone, vicino alla bandierina, crossa, tesa in aria, c'è il mio orgoglio, il mio orgoglio di Matteo Sattà, il mio orgoglio di Matteo Sattà, il mio orgoglio di Matteo Sattà,